Cazzeggiavo su YouTube in strane ore della notte e mi cerca di gente che commentava il rap e l'ho trovata a te e mi piacevi mi piacevi mi sei piaciuto come parlavi mi sono rivisto come da ragazzino e l'ho contattato io ho sempre cercato qualcuno che parlasse di rap sul web in maniera normale come se fosse una musica leggera italiana normale mi piace molto l'ultimo di Piero Pelù e anche quello di Fabricio e tu lo fai ciao frate, grazie di essere qua grazie a voi e grazie a voi supportate Rizzo The Man